Ciao e bentornato su Impara Da Vinci Resolve e bentornato su Fusion. Oggi vedremo come andare a colorare un tracciato di movimento. Ma prima di continuare ti invito a cliccare sul pulsante iscriviti al canale e sulla campanella a destra per essere sempre avvisato su tutti i nuovi video che andremo a pubblicare. Ti invito inoltre a seguire la playlist dedicata alla motion graphics e quindi a Fusion. Dopo aver visto come andare a disegnare un tracciato e far muovere un livello lungo il tracciato brevemente ti ricordo questi movimenti facciamo un passo in più nella nostra grafica animata e cerchiamo ora di disegnare il tracciato cioè lo facciamo dipingere da una sottile linea che mostra il tracciato direttamente all'interno della composizione. Quindi cominciamo a utilizzare i nodi di disegno, i nodi di Paint e vediamo come si utilizzano all'interno di Fusion. Innanzitutto noi dobbiamo disegnare questa linea sul background quindi selezioniamo il nostro livello di sfondo cioè il Garden in questo caso e andiamo a cliccare sul Paint ed ecco che viene inserito un nodo Paint subito a valle di Garden e prima del Merge. Adesso col nodo Paint selezionato in alto vediamo che abbiamo tutti i vari stili di disegno. Allora quello che si assomiglia di più al nostro tracciato è il Polyline Stroke quindi selezioniamo per ora il Polyline Stroke poi avremo modo di approfondire meglio tutte le differenze tra i vari stili di painting. Quindi selezioniamo due punti supponiamo questo e supponiamo questo quindi fissiamo il nostro Polyline andiamo sul Brush Control all'interno dell'Inspector qui posso scegliere la forma del pennello supponiamo di sceglierla con una forma circolare cambiamo un po' il colore ad esempio andiamo a prendere un blu poi cambiamo il Size magari lo facciamo un po' più piccolo è un po' più sottile bene adesso se faccio il Play questa linea che abbiamo creato con il Paint è una linea fissa e statica e quindi non segue in alcun modo il tracciato di movimento che avevamo creato adesso qui il tracciato come vedete è molto lento perché sta tutto caricando in RAM allora adesso dobbiamo tornare nel nostro nodo di trasformazione cioè il nodo nel quale avevamo creato l'animazione andiamo nel Modifier e vedete che è stato creato un Modifier Path che rappresenta appunto lo spline che avevo creato io per creare l'animazione sulla quale si muove il livello Fly ora cercherò di pubblicare questo Path per renderlo disponibile anche ad altri nodi quindi devo andare a scegliere qual è la proprietà che voglio rendere disponibile nel mio caso mi interessa l'animazione dello Shape quindi l'animazione stessa faccio tasto destro e vado a cliccare su Publish ed ecco che compare il mio Polyline che è quello che avevamo creato all'interno di Paint adesso l'unica cosa che devo fare è collegare questo Shape animato alla Polyline su Paint come facciamo? andiamo su Paint andiamo sul Modifier adesso la cosa che dobbiamo fare è aprire gli Stroke Control andare in fondo dove c'è scritto Right Click Here for Shape Animation e andare a collegare la Polyline che avevamo creato dallo Shape di animazione quindi tasto destro Connect to Path 1 Polyline Value ed ecco che adesso la nostra linea segue esattamente il tracciato di movimento cioè abbiamo copiato i punti da un tracciato e li abbiamo incollati tramite una Polyline a un nodo di Painting chiaramente il nodo di Paint ha moltissime funzionalità e possibilità come possiamo vedere qui direttamente dalla Toolbar e quindi piano piano nel corso dei tutorial cominceremo ad affrontarli uno ad uno per ora ci basta sapere come andare a far seguire con una linea ben disegnata un tracciato di animazione che abbiamo creato in precedenza bene se hai delle domande in merito alla colorazione di un tracciato ti invito a farle qui nella sezione commenti di questo video e noi ci vediamo domani per il prossimo tutorial su Impara Da Vinci Resolve e sabato per continuare la formazione su Fusion Grazie a tutti i énerg pensionati